Musica Come al nostro solito durante le puntate di Faccia a Faccia vi facciamo conoscere i protagonisti del nostro territorio. Oggi abbiamo un ospite, Maria Giorgini, benvenuta nei nostri studi. Dal 18 marzo di quest'anno, segretaria della CGL di Forlì. Ma andiamo prima di diventare segretaria. Intanto ho ricevuto il tuo curriculum, ma hai iniziato prestissimo la tua attività sindacale. Sì, devo dire che è iniziata molto presto. Sono entrata nell'organizzazione sindacale prima, essendo coinvolta come studentessa, per cui ricordo la partecipazione ai grandi eventi. Era il momento del sindacato di Cofferati, il 23 marzo, la grande manifestazione nazionale. Parliamo quindi degli anni 2002-2003. E poi sono entrata stabilmente nell'organizzazione sindacale nel 2004, e quindi effettivamente ad un'età abbastanza precoce, a 24 anni. E successivamente, subito dopo, un anno dopo, ho assunto una prima responsabilità, un primo incarico, che è quello di segretario generale del NIDIL, che allora era, diciamo così, una categoria di avanguardia. Era una categoria che aveva, e ancora, l'obiettivo difficilissimo di rappresentare le lavoratrici e i lavoratori precari. Allora eravamo appena giunti da quella che era l'approvazione della legge 30, chiamata legge Biagi, e quindi dall'inserimento di tantissime nuove forme contrattuali, le associazioni in partecipazione, le collaborazioni coordinate e continuative, che poi diventarono le collaborazioni al progetto, le famose CoCoCo e CoCoPro. E devo dire che lì abbiamo iniziato le prime contrattazioni nel settore pubblico, per i lavoratori precari del pubblico, nel settore privato, dove ci furono anni in cui la precarietà aveva effettivamente dilagato. Avevi 24 anni, un'età in cui molti tuoi coetani magari stavano ancora studiando, non affrontavano queste difficoltà lavorative e già aveva un impegno molto importante rispetto ai lavoratori, perché comunque hai affrontato una situazione dove c'era un cambiamento lavorativo, c'erano tutti questi contratti un po' interinali, se si può dire così. Sì, devo dire che fu proprio il momento di passaggio. Da una parte ho avuto la fortuna di vedere il sindacato e l'organizzazione sindacale anche nei momenti nei quali era un po' più semplice, se così si può dire, agire la rappresentanza. Quindi nel momento in cui lo statuto dei lavoratori era ancora più presente e in cui riuscivamo ad avere in qualche modo più facilmente anche un rapporto con i lavoratori. L'agibilità sindacale è diventata difficile, riuscire a trovare i lavoratori, è cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati gli orari, le presenze dei lavoratori in azienda, è difficile fare un'assemblea sindacale per poter accruppare insieme tutti i lavoratori che oggi hanno una condizione lavorativa molto frammentata, sia nell'arco dell'anno, quindi non sempre ci sono periodi continuativi, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono diminuiti, c'è molta precarietà, ma anche proprio molta discontinuità, aumentano i lavori stagionali, i lavori a tempo determinato e quindi anche agire il sindacato si complica, perché fare un'assemblea con mille persone la puoi fare in grandi siti industriali ancora, seppur anche lì si è cambiato perché ci sono le esternalizzazioni, gli appalti, la logistica, è un mondo molto più complesso di quello che era appunto 30 anni fa, è un mondo nel quale anche il sindacato ha dovuto rivedere le proprie modalità e ancora le dovrà rivedere, è una grande sfida, su questo la CGL devo dire che è ancora ed è tuttora in prima linea con quella che è stata l'ultima proposta di legge che ci ha tenuto impegnati per una raccolta firme, per la quale abbiamo raccolto oltre un milione di firme, per la carta universale dei diritti dei lavoratori. E qui uso solo un attimo di tempo per dire che è una proposta importante che giace in Parlamento e che invece noi crediamo debba essere, oltre ad essere incardinata, questa cosa che è già stato fatto in Parlamento, in Commissione, debba essere elaborata, esaminata e approvata perché è una proposta che dice che cosa? Dice che un lavoratore, indipendentemente da quella che è la sua condizione lavorativa, quindi indipendentemente che quella persona abbia un contratto a tempo indeterminato, che lavori nel settore pubblico, privato, nel commercio, o che sia uno stagionale, o che sia un lavoratore precario, deve avere gli stessi diritti fondamentali, la maternità, l'infortunio, che sia un lavoratore autonomo o meno. Questo è il punto che può riunificare le persone e ridurre le disuguaglianze che oggi sono presenti. Qui ci addentriamo in un argomento molto complesso che è quello del cambiamento, della trasformazione lavorativa in questo momento, insomma, è un momento di grandi cambiamenti, ma lo affronteremo più avanti durante la trasmissione e ritorniamo a te a 27 anni, segretaria Filcams CGL, quindi continui questo passo, questa carriera all'interno del sindacato. Sì, la Filcams, che è la categoria che per la CGL segue le lavoratrici e i lavoratori del settore del commercio, dei servizi e del turismo, è stata una grande sfida. Noi la chiamiamo una confederazione dentro la confederazione, perché dentro quella categoria ci sono una pluralità di lavoratrici e lavoratori con condizioni completamente diverse. Le altre professionalità, dove tu affronti il tema della digitalizzazione, delle altre tecnologie, le sfide innovative, e dall'altra parte invece quella che è i lavori più poveri, per cui più complessi, la logistica, la multiservizi, le pulizie, tutti i lavori per i quali, devo dire, io ho trovato una grande cosa, una grande umanità. Le grandi battaglie che abbiamo fatto in quegli anni, anche a Forlì, per le lavoratrici e i lavoratori, penso agli appalti delle pulizie delle poste, penso alle lavoratrici e ai lavoratori che tutti i giorni puliscono gli uffici delle casse dei risparmi, piuttosto di qualsiasi agenzia bancaria, e quanto c'è la necessità per loro di sentirsi protagonisti, di aver riconosciuto i propri diritti. Faccio solo un esempio, quel contratto nazionale è scaduto da oltre sette anni, a quelle lavoratrici e quei lavoratori oggi non viene dato un salario dignitoso, io credo che queste battaglie sono battaglie che debbano essere fatte, perché se non diamo dignità a tutti i lavori, a tutte le persone, la condizione sociale, la forbice sociale aumenta, e se la forbice sociale aumenta, aumentano i conflitti, e significa anche che per il territorio e per il paese, significa più povertà, e quei 5 milioni di poveri che oggi abbiamo, non riusciamo a ridurre quella fascia, a dare delle risposte, e io non credo, proprio per farti una chiosa finale, che la risposta sia il reddito di cittadinanza. È una risposta sicuramente importante per una fascia di popolazione, e che può dare una risposta sul tema della povertà, ma non è l'unica risposta, noi dobbiamo dare un lavoro e un lavoro di qualità, perché il lavoro è dignità, è la possibilità per la persona di emanciparsi, e in questo credo che anche il tema di pensare alle tante donne, la Filcams mi ha dato questa opportunità di conoscere tante lavoratrici, tante donne, come ti dicevo, in uno spaccato diverso di professionalità. Parleremo anche della situazione delle donne, perché ovviamente non l'ho ancora detto, sei stata la prima segretaria donna della CGL di Forlì, è un grande passo, diciamo. Un grande passo, devo dire, è arrivato un po' in ritardo, nel senso che ci abbiamo messo cent'anni per eleggere una donna segretaria generale della Camera del Lavoro di Forlì. È un passo però importante, abbiamo avuto già una segretaria nazionale, Susanna Camusso è stata la prima segretaria nazionale donna. Vediamo anche le foto delle elezioni, sì, è stato un momento particolarmente intenso, emozionante e ho voluto dedicarlo a quelle tante donne che hanno militato da appunto cent'anni dentro l'organizzazione sindacale, il movimento sindacale in generale, e non hanno mai avuto questo tipo di opportunità e se la sarebbero probabilmente meritata altrettanto quanto me o anche più di me, ma non hanno avuto questo tipo di opportunità proprio perché il ruolo della donna non ha avuto negli anni, anche dentro il movimento sindacale, l'opportunità di essere vista a parità di quello dell'uomo. Oggi le organizzazioni sindacali in generale hanno fatto grandi passi, abbiamo anche una segretaria donna in Cisle, la Curlana, abbiamo avuto Susanna Camusso. Credo che noi abbiamo l'opportunità davvero anche come donne di fare in modo che il sindacato abbia un punto di vista femminile, il punto di vista femminile è importante perché riesce a tenere insieme, aggrega, non divide, ma tenta appunto di vedere tutte le questioni del mondo del lavoro, quelle dentro il luogo di lavoro e quelle che riguardano anche il contesto esterno, perché ancora oggi, e la chiudo, ma il tema della conciliazione dei tempi di vita di lavoro per le donne e per fortuna oggi anche per gli uomini, perché c'è una nuova generazione che è cambiata, anche per gli uomini è un tema importante, il rapporto con la propria famiglia e anche il rapporto per chi non ha una famiglia, ma col proprio tempo libero, con le proprie aspirazioni, la necessità di studiare, di avere anche momenti di crescita personale, quindi cambia, quindi abbiamo il lavoro, la famiglia e gli interessi personali che devono stare insieme e le donne secondo me possono dare un punto di vista nuovo anche al sindacato per emanciparsi in questo senso. L'altro giorno sono stata a una conferenza stampa dove hanno presentato i progetti regionali, i finanziamenti regionali per i progetti che inseriscono, aiutano le donne nell'inserimento lavorativo, si è parlato della conciliazione casa-lavoro, ma anche di un progetto culturale del lavoro al femminile che secondo me un po' manca e anche secondo la regione ovviamente perché hanno finanziato in questo senso, ma secondo te qual è la situazione vera delle donne nel nostro territorio, a livello lavorativo, manca proprio la cultura? Allora io penso di sì, penso che manchi non solo nelle donne e in parte anche noi abbiamo la necessità di riconoscerci ancora, la dico così, come classe, come gruppo, come anche un gruppo di persone che deve portare avanti un interesse che è di parte, è vero, ma che è un interesse che messo anche se di parte riesce a diventare collettivo, mi spiego meglio, la possibilità delle donne di essere parte integrante e attiva del mondo del lavoro, quindi di essere occupate, di essere occupate a parità degli uomini e di avere un salario a parità degli uomini, credo che sia qualcosa che possa emancipare la nostra società, non come dire fare un passo indietro, evidentemente a questa emancipazione devono corrispondere anche servizi adeguati, la nostra regione da questo punto di vista ha fatto molto, è una delle regioni, forse è la regione che ha fatto di più a livello nazionale, abbiamo un livello di servizi per l'infanzia adeguati, abbiamo bisogno di fare ancora tanto sugli anziani e sulla non autosufficienza, perché spesso questo lavoro di cura, un lavoro importante che non è che deve venire meno, ma deve diventare da una parte paritario tra le donne e gli uomini e dall'altra parte deve vedere sempre più un servizio pubblico che si affianca e non lascia da sole le famiglie, quindi su questo c'è bisogno di fare molto, c'è un tema culturale importante che ripeto, riguarda sia le donne ma anche gli uomini e qui collego un punto che per me è importante, che noi non dobbiamo solo lavorare sul far crescere la consapevolezza delle donne nell'opportunità di poter vivere una vita piena e paritaria a quella degli uomini, ma soprattutto dobbiamo riprendere il concetto del rapporto dell'uomo con la donna. Il tema dei femminicidi, della violenza di genere è molto collegato anche al fatto, io credo, che ci sia bisogno di investire in una cultura, in formazione, in educazione, anche all'orientamento sessuale e ai rapporti tra i due generi, proprio perché l'uomo rischia di perdere quello che è stato storicamente il suo ruolo, il breadwinner, quello che porta a casa il pane in famiglia e quello che noi invece dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è proprio perché questa perdita di ruolo da parte dell'uomo rischia di schiaricarsi con violenza sulle donne, non riconoscere questo diritto all'emancipazione, c'è tanto da fare, la regione sta facendo molto, questi progetti sono importanti, abbiamo partecipato a un bando anche assieme alla provincia di Forlicesena, proprio un bando della regione, per dei progetti che intervengono sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista fattivo, si deve andare avanti così, non dobbiamo tornare indietro. Tanto parliamo del tuo ruolo all'interno della CGL e quindi sono passati alcuni mesi da quando ti sei insediata, quali sono state le tue prime priorità? Allora, le mie prime priorità sono state sicuramente quelle di prendere in mano un'organizzazione complessa. Considera che la Camera del Lavoro di Forlì ha circa 32.000 iscritti, tra lavoratori attivi e pensionati e oltre a questo è un sistema complesso che dà delle risposte sia in ambito collettivo, per cui ci sono 12 categorie, quindi settori che rappresentano i lavoratori nei vari ambiti, dall'industria al pubblico impiego e quindi chiaramente una conoscenza anche mia personale che si è dovuta ampliare rispetto a quello che era la mia attività precedente. E oltre questo abbiamo anche un sistema di servizi complesso. Ti parlo di una struttura che ha nel territorio 18 sedi, che fa dichiarazioni dei redditi con la società fiscale, con teorema per 24.000 persone. Quindi siamo anche da questo punto di vista non solo un'organizzazione sindacale, ma siamo anche un sistema complesso per il quale ci sono anche lavoratori e lavoratrici che operano nei nostri uffici e ai quali noi dobbiamo chiaramente chiedere tutti i giorni di raffrontarsi con le persone, dare delle risposte anche dal punto di vista delle tutele individuali, dalle quali poi una volta che riusciamo a capire quelli che sono i problemi che le persone hanno sul luogo di lavoro o dal punto di vista fiscale o dal punto di vista previdenziale, tutto il tema anche delle pensioni, ma il tema degli assegni familiari, l'anno in autosufficienza, le cose che dicevamo prima, da lì riesci anche a comprendere, è un osservatorio importante sul quale puoi capire anche le priorità per il territorio, perché hai un rapporto diretto con le persone. I nostri uffici sono perennemente quasi assediati, da una parte per fortuna dall'altra parte è molto faticoso e abbiamo, devo dire, questa è una grande forza per noi, persone, operatrici, operatori sindacali che credono in quello che fanno e questo è il valore aggiunto della CGL e della nostra Camera del Lavoro, quindi la mia priorità è stata quella di questa conoscenza, abbiamo riorganizzato, abbiamo una nuova segreteria eletta, quindi assieme a me sono state elette una compagna che è Emanuela Castagnoli, direttrice dell'Inca di Forlì che oggi entra in segreteria confederale, è giovanissima anche lei e Moreno Cimatti che viene dai metalmeccanici che è il nostro segretario organizzativo. Questa è la nuova squadra, abbiamo avuto importanti anche iniziative per cui anche la festa della CGL di Forlì che si è tenuta ad agosto con importanti ospiti, un bellissimo parterre, una grande discussione e l'opportunità anche lì di incontrare il territorio, di discutere dei temi sindacali e non solo e soprattutto anche di avere un momento di socializzazione che è importante. Le persone non hanno più i luoghi dove parlare, discutere e confrontarsi. Nel nostro piccolo tendiamo a cercare quei luoghi dall'assemblea sindacale fino appunto alle grandi iniziative, come può essere una festa nella quale mettiamo insieme la convivialità con temi importanti. Da quando ti sei insediata a Forlì c'è stato un cambiamento epocale, sono state le elezioni e c'è stato un cambiamento amministrativo. Come vi trovate con la nuova amministrazione comunale? È stato un cambiamento sicuramente epocale perché il territorio di Forlì ha visto dopo oltre 50 anni un cambiamento politico dal centro-sinistra al centro-destra sul quale devo dire che io non ho apprezzato i toni della campagna elettorale. Non mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti perché quando si fa politica bisogna stare, io credo, molto attenti pur portando le proprie idee a cercare di rappresentare soprattutto quella che è un'idea diffusa per il territorio e per i cittadini e dall'altra parte fare molta attenzione a quella che è la nostra storia. Credo che quei toni siano toni che non hanno aiutato la serenità del territorio e so che sono state anche importanti le discussioni che abbiamo avuto, il tema del balcone quando Salvini è venuto a Forlì e ha parlato da quel luogo simbolo per la città di Forlì. Ricordo che quel balcone, l'ultimo che è intervenuto da quel balcone non è stato Benito Mussolini ma è stato Luciano Lama che nella Forlì liberata andò da quel balcone ad annunciare la liberazione perché era un simbolo nel quale veniva liberata la città di Forlì dal nazifascismo, veniva ridata ai cittadini e per noi toccare quel simbolo è stato un toccare le nostre radici perché la CGL è quello che dicevamo prima la tutela collettiva, la tutela individuale ma anche delle profonde radici valoriali che si basano sulla nostra Costituzione. Luciano Lama è stato un padre della nostra resistenza ma anche segretario generale della Camera del Lavoro che allora era di Forlì e Senerimini per poi diventare segretario nazionale. Dico un tono che non mi sono piaciuti, devo però dire che nel frattempo una volta che sono avvenute le elezioni si è insediato il sindaco e la giunta, la prima cosa che abbiamo voluto dire al sindaco è una che è importante, credo che l'abbiamo anche apprestato e riconosciuto che per noi lui era il sindaco di Forlì e quindi noi riconosciamo le istituzioni proprio perché ci riconosciamo in quella Costituzione, in quei valori democratici noi oggi ci stiamo confrontando con questa amministrazione, con questa giunta esattamente come ci siamo confrontati con la giunta di centro-sinistra, indipendentemente. Ovviamente sappiamo essere critici come è stato in precedenza anche con la giunta Adrei in alcune fasi complicate, ricordo che facciamo un'occupazione del Consiglio Comunale con la giunta scorsa e facciamo poi anche importanti accordi però per il territorio e quindi sappiamo essere critici nel momento in cui lo dobbiamo essere e sappiamo anche valutare le azioni positive che questa amministrazione fa o farà in questi cinque anni e noi speriamo che le faccia, lo speriamo per il bene del territorio. Insomma sei un fiume in piena, posso dire, come energia ti vedo proprio così quindi ti auguro veramente di portare avanti in questi anni tutte le tue lotte, i tuoi obiettivi per il sindacato ma siccome stiamo arrivando alla fine della trasmissione vorrei sapere anche un po' di te. Hai degli hobby? Allora sì, ho degli hobby che purtroppo non riesco a gestire in quello che è il mio tempo perché sicuramente soprattutto questo incarico è un incarico molto impegnativo però devo dire che non ci rinuncio per cui ho studiato piano per dieci anni per cui continuo ad avere questa passione, dipingo perché ho anche qui fatto studi che fanno riferimento alla pittura e al restauro e quindi ho avuto modo di proseguire su questa strada e sicuramente la lettura, mi piace tantissimo andare al cinema. Qualche film che hai visto ultimamente che ti è rimasto in pressa? In realtà in questi ultimi anni ho dovuto fare una cosa, accedere al rapporto con mio figlio per cui l'ultimo film che ho visto è un film di Walt Disney perché ovviamente cerco anche di unire il rapporto con lui. Devo dire che un ultimo film, un film importante cui consiglio tutti di vedere è Il Diritto di Contare che è un interessantissimo film con Kevin Costner che fa una parte eccezionale che fa riferimento al periodo della segregazione razziale negli Stati Uniti dove ci sono queste tre donne di colore che devono affrontare la loro emancipazione dentro la NASA. È un film bellissimo che per chi non lo ha visto lo consiglio fortemente. Una cosa che vorresti fare che non hai mai fatto? Una cosa che vorrei fare che non ho mai fatto? Guarda, penso buttarmi dal paracadute, col paracadute, buttarmi da un aereo. Ma diventare segretaria della CCL un po' è come buttarsi col paracadute. In qualche modo sì. Dissolvo che il paracadute c'è, però sicuramente è un bel volo. Però questa cosa del cielo, di buttarsi, di essere un po' senza freni, di vedere il mondo dall'alto, mi ha sempre molto affascinato. Probabilmente prima o poi lo farò. Bene, con questo volo, con questo sogno di volo, concludiamo la nostra trasmissione. Grazie per essere stata con noi e ringrazio anche i nostri telespettatori per averci seguita. Arrivederci, alla prossima. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS